Matteo Dalera, Design Manager, SIPAL. Di cosa si occupa? La SIPAL si occupa essenzialmente di progettazione in campo aeronautico e in tutto ciò che è supporto logistico e la redazione di manuali tecnici per il mondo dell'aeronautica. Come stanno andando le cose qui a Londra? Molte persone che affluiscono all'area dedicata a Torino-Piemonte Aerospace. Gli incontri sono produttivi? Gli incontri sono stati tanti e per quanto riguarda la produttività speriamo di sì. Abbiamo qualche contatto molto importante che vedremo di concretizzare a Rienti in Italia. I tavoli tecnici vi sono stati utili? I tavoli tecnici sono stati importanti e per quanto riguarda l'utilità adesso è ancora presto.